Sembra sia stato colpito Leonodari durante il premio Borsellino, la posizione di Acerbo. Noi abbiamo partecipato stamattina insieme all'Italia dei Valori e ai grillini alla manifestazione di protesta nei confronti di questa iniziativa, cioè di invitare un esponente della maggioranza che sta attaccando l'autonomia della magistratura, che ha provato le leggi vergogna. Cosa c'entra Gasparrico Borsellino non si capisce. Il fratello di Borsellino ha addirittura mandato una lettera in cui dice che non voleva che il nome di suo fratello fosse affiancato a personaggi di questo genere. Noi siamo andati civilmente a manifestare, io portavo un cartello con la scritta PM comunisti, prima di Berlusconi lo diceva Totorina. Per quanto riguarda Leonodari, che è anche un amico, persona che stimo, non so cosa sia accaduto, se è stato aggredito gli esprimo la massima solidarietà, ma la cosa voglio precisare non riguarda la manifestazione, perché davanti alla provincia, a Leonodari, stamattina non l'abbiamo neanche visto, c'eravamo noi, le forze dell'ordine, che tra l'altro ci hanno precluso l'accesso alla sala, a mio parere in maniera immotivata, perché non si trattava di un convegno di partito, ma di un convegno pubblico pagato con i soldi dei cittadini e quindi tutti i cittadini dovevano poter accedere, anche fare domande. Mi dispiace per Leo e spero che sia acclarato chi sia questo aggressore, quindi alla mia solidarietà come ce l'ha a chiunque sia vittima di violenza ovviamente.